Buon pomeriggio a tutti. Oggi è giovedì 25 settembre, sono le 16.29 e torniamo a parlare di Nasdaq perché effettivamente me l'ho scordato da un po' di tempo e non sono riuscito a fare analisi particolari. Facciamo il punto della situazione come ti consueto, ovvero siamo arrivati a 48 barre sopra questo minimo del 16 di giugno. 48 sono un t più 3 e quindi abbiamo la conferma non soltanto da parte dello swing, come avevo anticipato, ma anche del tempo che da qui è partito effettivamente un nuovo annuale. Togliamo il punto di domanda ed eccoci qua. Abbiamo la scansione temporale corretta, era corretto anche che cosa? Ve lo faccio vedere subito. 46 barre no, quindi era corretto persino. Primo ciclo mensile da 26 giorni, due oltre la durata minima e poi secondo che ha già impappocchiato il secondo t settimanale perché l'ha reso ribassista e è arrivato a quante barre complessivamente? È arrivato a 22 barre e diciamo che sta facendo un po' di fatica a rimanere sopra il 50% di ritracciamento di fibonacci. Ricordiamoci che se da qui non riesce a partire rapidamente un nuovo ciclo bisettimanale si rischia di andare a chiudere che cosa? Non soltanto il mensile T più 2 ma anche il primo trimestrale ritornando verso la media mobile a 50 periodi, quindi in questo momento come livello orientativamente 12.437. punto fondamentale da andare a controllare è il minimo a 12.843, me lo segno, 12.843, che ci dirà di andare short se lo raggiungeremo prima della quinta candela o anche la quinta candela perché avremo ancora una giornata di discesa anche perché la centratura è questa, non ci sono centrature alternative, abbiamo fatto questo movimento poi un altro da 10, partenza da 2, se si torna lì sotto, prima si torna lì sotto e prima noi abbiamo una bella occasione short per quanto riguarda l'inverso siamo arrivati già alla condizione più che necessaria e sufficiente per far partire come minimo un ciclo mensile, non soltanto un T più 1 bisettimanale come vedete scritto qui, anzi iniziamo a fare così io lo metto, a mio rischio e pericolo come al solito rischiamo, anche perché vi faccio un altro regalo oltre a questo grosso regalo, per cui sapete che da qui è partito, se continuano ad esserci volumi un nuovo T più 5 annuale, un nuovo ciclo annuale dopo l'annuale partito qui e il biennale che si è chiuso sempre il 16 di giugno quindi sono tutti dati fondamentali che non so quanti altri trader o analisti vi hanno dato in passato anche perché permettono di scegliere che cosa fare se noi abbiamo poca spinta rispetto al precedente T più 5 e continueremo ad andare long teoricamente il secondo T più 3 potrebbe essere quello che dà l'ultima spinta verso il massimo di un ciclo che potenzialmente potrebbe essere anche neutro o laterale e poi vedremo ma attenzione perché nella realtà dei fatti se qui ha chiuso come ha chiuso un biennale da qui potrebbe partire un nuovo biennale quindi ci sono ancora tantissime cose per cui il futuro è estremamente incerto ma noi abbiamo delle certezze come ha detto la prima certezza è che sotto questo minimo sotto i 12.843 andremo short se ci arriveremo anche alla quinta barra la seconda cosa interessante è che appena non inizieremo ad andare più ad aggiornare i massimi anche lì si potrebbe valutare teoricamente un tecnica 2 perché finito di aggiornare i massimi chiuderà l'inverso che ha già la condizione necessaria e sufficiente per andare a chiudere e potrà partire un nuovo inverso e ribadisco questo è un regalo gigantesco dirvi che abbiamo già violato il swing per la partenza di un nuovo T più 3 inverso significa che rimarremo sotto questo massimo ok? sotto questo massimo non soltanto per 7 giorni ma probabilmente avremo ancora più spinta verso il basso probabile e perché è molto probabile? per il fatto che andiamo a chiudere il nostro secondo mensile e anche il trimestrale il trimestrale è partito da questo minimo e che potremmo avere dei target molto semplici e andando a ficcare qui che cosa? andando a mettere il ritracciamento di Fibonacci che come vi dicevo ci portano attorno ai 12.379 e quindi di nuovo la media mobile 50 periodi se lo utilizziamo al 50% e se andassimo sotto 12.062 quindi queste sono le informazioni interessanti che abbiamo date da tempo, swing, tempo, swing e con questo abbiamo tante informazioni interessanti e con questo minimo quella a 12.843 ne abbiamo altre e se andassimo in violazione di questo massimo ne avremmo ancora altre ultimissima cosa che vi racconto da qui a qui abbiamo fatto le nostre brave 96 barre abbiamo fatto quindi un semestrale t più 4 inverso qui abbiamo fatto un primo trimestrale inverso dopo un trimestrale è seguito non soltanto un altro trimestrale ma un semestrale quindi 88 barre qui scusate dopo il primo trimestrale sì giusto ok trimestrale inverso e poi t più 4 inverso a quanti giorni siamo di questo annuale inverso arrivando qui siamo a 191 su minimo 192 e per chiudere un annuale inverso che cosa richiede? dopo la chiusura del mensile un baffo rialzo non so cos'altro raccontarvi ragazzi e ragazzi direi che è tutto scappo e vado a fare un altro bel bagnetto con mia figlia perché qui a Malta mi hanno regalato un paio di immersioni questa questa mattina che sono state fantastiche veramente soprattutto la prima e adesso è giusto che anch'io ridia qualche cosa alla mia famiglia tempo soprattutto vi auguro una splendida giornata la mia lo è già sicuramente e alla prossima ci vediamo per bitcoin questa sera penso bye bye